Non c'è... lo facciamo accendere... aspetti... allora, grazie... così cominciamo, ci scusiamo con tutti voi ovviamente per un po' di ritardo, solitamente fisiologico, in questi giorni prenatalizi, con la pioggia, insomma sappiamo tutti in cosa si trasforma Roma. Allora, vediamo se abbiamo un microfono per... è pronto, pronto? Sì. Prego. Grazie. Allora, eccoci qua, sono il Presidente del Circolo, ma insomma ci conosciamo quasi tutti, è un onore, un orgoglio essere qui e dare un po' il benvenuto all'inizio di questo convegno organizzato su iniziativa delle tre associazioni e dedicato appunto come titolo al giudice, il giudice nella società civile, un argomento insomma che sarà sicuramente di forte interesse ed attualità, a tale riguardo voglio fare un piccolo parallelismo con il Circolo che presiedo, fondato nel 66 da magistrati della Corte dei Conti, però diciamo che da subito si è poi aperto alla società civile, probabilmente più per motivi di bilancio, per cercare insomma di poter fare gli investimenti che sono stati fatti, però questa apertura ha sicuramente dato un certo arricchimento proprio al Circolo perché questo confronto continuo con avvocati, imprenditori, medici, ingegneri ha sicuramente, come dire, ci ha dato un po' la... ci dà la misura di quello che è il giudizio della società civile nei confronti della nostra categoria e quindi credo che sia corretto calarsi nella realtà e prendere atto di quello che è il giudizio anche che la società ha nei nostri confronti, con la speranza insomma di cercare sempre più di migliorare il rapporto e la fiducia che la società ha nei nostri confronti. Io ci tengo ovviamente a dare un... a ringraziare intanto le associazioni che appunto hanno organizzato questo convegno, in particolare mi riferisco al consigliere Santa Lucia, a Gia Serlenghi e a Paola Brigori, alla collega Paola Brigori che diciamo si sono andate molto da fare per organizzare questo convegno. Ringrazio il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, qui presente con noi, così come il Procuratore Generale, Angelo Canale. Rinvio ai colleghi che parleranno dopo e poi il saluto a tutte quante le autorità che nel frattempo interverranno. Io approfitto qui solo per ringraziare, salutare e dare il benvenuto a nome di tutto il corpo sociale al Sottosegretario Mantovano qui presente con noi. Vi auguro un buon convegno e a disposizione per qualunque cosa. Approfitto anche per gli auguri ovviamente di buone festività. Grazie a tutti quanti. Grazie, grazie Presidente Castiglione, grazie per l'ospitalità. Io siccome dobbiamo andare anche spediti, insomma il pomeriggio è intenso e gli impegni di tutti voi sono tanti. Dico solo due cose. Magistratura a confronto, non so se vi siete fatti un regalo di Natale nel mettere insieme le tre magistrature, non so se per la prima volta, ma insomma per chi come me si occupa di informazione è sicuramente una delle primissime volte, quindi magistrati ordinari, magistrati contabili, magistrati amministrativi. È la prima volta? È la prima volta, quindi è un vostro regalo, un regalo di Natale che vi siete fatti. Immagino che ci sia anche lo scopo di parlare delle criticità, ma anche delle tante cose importanti della magistratura in un'ottica di compattezza, poi con grande trasparenza raccontandosi anche qual è per esempio la percezione delle magistrature, in particolare mi riferisco a quella contabile amministrativa per quanto riguarda i cittadini e l'informazione tutta che hanno un ruolo cruciale nello sviluppo e la modernità del Paese, ma magari sono meno conosciute per evidenti motivi nelle funzioni, in quello che fanno di altri. Quindi credo che anche da questo pomeriggio, mi auguro, ma credo che sarà così, possano emergere anche dei suggerimenti nelle regole, nel come cambiare la percezione. Peraltro un appuntamento che cade in un momento molto caldo del Paese, ma anche a livello internazionale, sapete c'è una legge di bilancio che deve essere approvata con grande fretta per scongiurare il fantasma dell'esercizio provvisorio, cosa peraltro capitata anche molte volte negli ultimi anni, ma insomma quest'anno in particolare proprio per il fatto che siamo andati a votare, come sapete, a fine settembre praticamente, quindi il nuovo governo ha dovuto fare tutto con grande fretta. So che, e questo lo fa capire molto bene il titolo dell'argomento che avete scelto, ovviamente al centro della nostra discussione del confronto c'è l'indipendenza del giudice, c'è ovviamente tutta la questione che riguarda i fuori loro, i rapporti con la politica, peraltro è occasione di fare un confronto non solo tra le tre magistrature, ma tra le magistrature, la società civile, la politica e l'impresa, gli imprenditori, in un momento in cui bisogna dispiegare il piano nazionale di ripresa e resilienza, come sapete ancora alcuni obiettivi per quanto riguarda la fine di quest'anno da raggiungere e ci sono anche lì delle criticità che il Paese però si porta da molto tempo come fardello. Oggi peraltro è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il nuovo codice degli appalti, peraltro il sottosegretario Mantovano, credo in conferenza stampa con il Ministro Salvini, ha dato le informazioni, poi ci sarà l'iter parlamentare, il nuovo passaggio dal Consiglio dei Ministri e poi credo entro i primi del prossimo anno sarà operativo. Tutto quello che riguarda gli appalti, lo sapete molto meglio di me, è materia sensibile e critica e riguarda ovviamente la velocità di questo Paese nel poter poi aprire i cantieri, modernizzarsi, utilizzare al meglio le risorse europee, credo come tutti che bisogna ovviamente procedere più spediti, la parola d'ordine è velocizzare, sburocratizzare, bisogna sempre contemperare a questa fretta indotta per forza di cose nel 2026 i cantieri, i progetti devono essere messi a terra come si dice, bisogna contemperare tutto questo ovviamente con il rispetto dei controlli che ci devono essere, delle regole, della legalità, cercheremo di capire anche questo. Allora intanto chiamo qui con me Paolo Briguori, Presidente dell'Associazione Magistrata della Corte dei Conti, la faccio accomodare, faccio accomodare Gia Serlenga, Presidente dell'Associazione Magistrati, prego prego, tanto c'è un microfono in ogni poltroncina, amministrativi, si mette accanto, tanto siete voi tre e il Presidente dell'ANM Santa Lucia, prego, vi potete accomodare, così partiamo, eccoci qui, io mi accomodo, allora, Presidente Briguori, allora cominciamo da lei, intanto io ho fatto un quadro, diciamo una cornice generale anche dal mio punto di vista, ci racconta l'idea di questo incontro delle tre magistrature? Sì, io inizialmente, scusate, inizialmente però è d'obbligo per me, è d'obbligo ringraziare il Presidente del Circolo che ci ha ospitato, naturalmente voglio ringraziare e salutare tutte le autorità che oggi sono presenti, il Sottosegretario Mantovano e tutte le autorità che si collegheranno, abbiamo infatti il Sottosegretario Sisto, il Vice Ministro della Giustizia, poi avremo anche il Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Pagano, il Sottosegretario alla Giustizia, Ostellare, il Sottosegretario al Mur, Montaruli. Chiaramente per me è un onore anche ringraziare e ospitare il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, il Procuratore Generale e le autorità tutte. Io questo lo dovevo dire perché per me è un onore, è un momento importante, perché per la prima volta tutte e tre le magistrature, per la verità doveva collegarsi anche la collega dell'Associazione Magistra di Consiglio di Stato, ma era impedita per motivi istituzionali, è per la prima volta che si siedono a un tavolo, metaforicamente a un tavolo, ma non solo per confrontarsi, ma per confrontarsi non solo tra di loro ma anche con il mondo politico istituzionale. E quindi il segnale, l'aspetto più importante di oggi come momento storico è proprio il confronto e il dialogo, che forse a volte è mancato anche tra di noi, evidentemente. Il dialogo è importante perché ci permette di confrontarci, ci permette, e io mi auguro che questo sarà un avvio, soprattutto io parlando per la Corte dei Conti, è un avvio verso magari a un confronto, sempre rimanendole nelle nostre prerogative, noi magistrati, governo, legislatore dall'altra parte, per riflettere e per poi forse produrre e giungere a una normativa più ragionata, al di là poi di aspetti conflittuali. Però è importante che si lasci lo strumento per esempio del decreto legge, dell'urgenza, per permettere anche a noi di vivere delle riforme più ragionate, più strutturate, perché noi siamo stati per esempio destinatari di norme ultimamente anche nel periodo della pandemia, una norma in particolare che ha come dire, totalmente rivoluzionato la responsabilità amministrativa, sia dal punto di vista del dolo ma anche della colpa grave, sospendendola, e non entro nel merito, oggi non voglio entrare nel merito, parliamo anche di altre cose, però questo sicuramente, questo strumento non ha aiutato perché questa norma non è a sistema, quindi l'auspicio è proprio questo, che il dialogo porti a delle normative, a delle norme, discipline ragionate e che possono poi andare a sistema con tutte le nostre funzioni che sono disciplinate dettagliatamente. Allora, no, io seguivo le sue riflessioni, diciamo che c'è poi un fil rouge che dovrebbe legare tutte le istituzioni, uso un termine generico, dello Stato, cioè ognuno poi con le proprie competenze, col proprio perimetro di azione della collaborazione, perché anche così poi si arriva magari a evitare riforme a pezzetti, diciamo, per seguire il suo ragionamento. Sentiamo, adesso facciamo un rapido giro, Gia Serlenga, sentiamo i magistrati amministrativi, prego. Provi un po', dia un colpetto sul microfono. Ecco, dovrebbe andare, prego, vediamo. Bene. Non rifaccio i saluti e ringraziamenti, altrimenti siamo qua tutto il pomeriggio così, ma sicuramente è un'occasione, diciamo, abbastanza storica, cioè è la prima volta che ci vediamo tutti nello stesso tavolo, non ripeterò quello che ha detto la collega, ma mi soffermerò sul tema prescelto. L'idea è sicuramente quello di confrontarci e di confrontarci tutti insieme con la politica che aggiungo con l'economia, perché sono i vari attori del palcoscenico, diciamo, della vita. Ma perché l'indipendenza del magistrato? Innanzitutto perché sappiamo bene che è un tema di grandissima attualità. E credo che sia la maggior garanzia per tutti i cittadini. Comunque la pensino, diciamo. Comunque la pensino, ma il punto è proprio questo. Come la pensano i cittadini? Mi ha colpito moltissimo l'ultimo rapporto europeo, Justice Scoreboard 2021, è un rapporto annuale che fa l'Europa comparando le magistrature. Sotto il profilo della percezione dell'indipendenza dei magistrati, l'Italia si è collocata in maniera pessima. Cioè, dopo di noi, soltanto Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Qual è la ragione principale adotta? La percezione di un'interferenza da parte del governo in generale della politica. Per dirla in termini giuridici, una violazione della separazione dei poteri. Un principio che, insomma, sappiamo tutti essere cari dello Stato di diritto, anzi, nella raccomandazione europea del 2010 è stato proprio definito il principio connaturale allo Stato di diritto, è oggetto di una serie di atti europei dell'ONU dal 1985, ma evidentemente non si può ignorare la percezione che l'opinione pubblica ha dell'indipendenza dei magistrati. Perché? Perché va chiarito subito un concetto. L'indipendenza non è un privilegio della magistratura, è una garanzia del cittadino. Cioè, è una garanzia che la Costituzione pone a tutela della difesa dei diritti dei cittadini. Quindi non è possibile ignorare il punto di vista di chi si serve, diciamo così, della giustizia, sia contabile, amministrativa, ordinaria. Poi ormai credo che sia passato il concetto delle specializzazioni, si sta creando anche la giustizia tributaria e professionale, superando una certa ondata di un certo pensiero. Ma pur nella differenza delle competenze è importante che su alcuni temi ci intendiamo. E quando si c'entra l'obiettivo dell'indipendenza? Bella domanda. L'indipendenza innanzitutto va riguardata in due modi. L'indipendenza del corpo non può prescindere dall'indipendenza del singolo magistrato, ma l'indipendenza del singolo magistrato è garantita dall'indipendenza del corpo. Ora, secondo me la partita si gioca su tre livelli. Il primo sono le regole. Le regole, ho preso qualche appunto per non dire sciocchezze, per essere sintetica e dire però quello che voglio dire. Le regole devono essere chiare e devono essere moderne. E devono essere anche applicate in modo chiaro, in modo uniforme, in modo equo, dagli organi di autogoverno. Ecco perché è il secondo tavolo. Abbiamo già delineato il perché del primo tavolo, cioè l'importanza dell'opinione del cittadino, quindi come viene percepita la magistratura. Abbiamo individuato anche il perché del secondo tavolo, l'autogoverno. Perché l'autogoverno è la sede in cui queste regole si devono applicare. E quindi la composizione, l'elezione, il funzionamento sono garanzia indiretta dell'indipendenza. E' chiaro che se poi riuscissimo ad avere tam, a chiarire tutte le regole, ha citato il codice degli appalti, che ha avuto una vita... Che in questi anni ha subito cambiamenti continui, peraltro. Io dico sempre che una legge del 1865 che regolava gli appalti è riuscita a sopravvivere fino alla legge Merloni, cioè è sopravvissuta una legge che regola i rapporti economici, è riuscita ad arrivare indenne e a superare scoperte epocali, dalla Merloni in poi non si è capito più niente. Cioè, modifiche Merloni, non so che modifica arrivato, il codice degli appalti. Non sappiamo. Quindi è evidente che regole chiare in generale, non soltanto sull'indipendenza del giudice, aiutino e diano, come dire, farebbero un gran favore anche all'esercizio indipendente dalla funzione giurisdizionale. Certo. Per non parlare delle ricadute su chi fa impresa. Non ne parliamo. Io ho sempre un dialogo costante con anche il mondo economico e con i giovani in particolar modo, perché loro sono il futuro, per tornare e non perdermi, perché tendo a perdermi. Quindi, tre livelli. Regole chiare e moderne. Secondo livello, la percezione, quello che abbiamo già detto, la percezione dell'indipendenza, non mi soffermo ancora, lo abbiamo detto, è una garanzia per tutti. Ma c'è anche un terzo profilo. Quanto il magistrato vuole essere indipendente? Perché non sia che, in qualche modo, siamo noi stessi a rinunciare all'indipendenza, ad abdicare. E questo, secondo me, vale sia nei rapporti con l'esterno e sia nelle dinamiche interne. mi fermerei. Grazie, grazie, grazie. Così andiamo adesso dal Presidente Santa Lucia. Grazie anche a lei. Allora, Presidente, intanto, insomma, è una bella occasione quella di confrontarsi su questi temi. Voi siete quelli anche mediaticamente più nel mirino, poi, ovviamente, no? Eh, da dove vuole cominciare? No, io, più che cominciare, come dire, vado in prosecuzione con quanto hanno detto le colleghe. Mi sembra questo evento un evento importante. Non che le magistrature non si parlassero prima. Esiste un comitato intermagistratura da tempo. Parlavamo delle questioni meno interessanti sotto il profilo, come dire, collettivo, politico-istituzionale, questioni burocratiche. Oggi stiamo sperimentando l'importanza di parlare insieme di una precondizione del nostro lavoro. Siamo giurisdizioni separate, magistrature separate, ma la giurisdizione è unitaria. E l'indipendenza ne è una precondizione. Ora, l'indipendenza, ha detto bene la GIA, anche i magistrati, quanto vogliono essere indipendenti. Perché l'indipendenza è faticosa. L'indipendenza significa assumersi di continuo, costantemente, un forte carico di responsabilità. Essere dipendenti da qualcuno deresponsabilizza, in qualche modo accomoda in un senso impiegatizio burocratico. il mestiere può anche essere più agevole. In una società così complessa, dove la regolazione di tutto quello della realtà non può essere del tutto affidata alla politica, ma non perché la politica, perché ci sono condizioni oggettive di impossibilità di dettare regole certe che coprono tutti gli spazi in una società così complicata, dalla magistratura, si trova da un lato a espandersi, dall'altro ad essere accusata di questa espansione e quindi ad essere in qualche modo... A riempire dei vuoti, che vanno riempiti, le risposte bisogna darle. Ovviamente noi non cerchiamo di erodere spazi alla politica, ma siamo lì, la funzione è di supplenza, non è una ribellione alla separazione dei poteri, alla primazia della politica, e la necessità imposta da una società così complicata, ma non la società italiana. Io parlo, come dire, di un fenomeno che riguarda e attraversa storicamente tutta la società occidentale. Questa espansione del giudiziario, che è un po' necessitata dai dati oggettivi, viene vissuta, può essere vissuta con una certa, come dire, scarsa tolleranza da parte di chi pensa che questa espansione sia un pericolo per la supremazia della politica, per le scelte di chi deve e assume su di sé il compito di guidare, governare, orientare e dare un senso al futuro della collettività. Non ci compete questo, non vogliamo farlo, ma vogliamo solamente discuterne insieme attraverso un ennesimo tentativo di rappresentare la giurisdizione al di fuori dei canovacci tradizionali di una opposizione. Questo riguarda più la magistratura ordinaria, una opposizione continua con la politica, non ci interessa, non la vogliamo, se c'è stata ce ne guardiamo bene dalla libertà, noi più che l'opposizione vogliamo parlare, perché, come dire, non che debba essere ricordato nei convegni nessuno mette in dubbio l'importanza dell'indipendenza, ma è nel quotidiano, nella continua attenzione e relazione tra i poteri che questa indipendenza deve essere, come dire, messa al centro della discussione quando si parla di politica giurisdizione. Può anche avere un costo l'indipendenza della magistratura perché è una variabile che non viene governata, ma è un costo che ripaga in termini di libertà e di democrazia. Diciamo qualcosa anche su un'altra questione che ne accennavo all'inizio, ma insomma se ne parlerà, la questione dei magistrati fuori ruolo, che è un'altra questione di cui si parla molto. Questo è un dato, a mio giudizio, molto enfatizzato. Storicamente le magistrature in Italia sono state un serbatoio di competenze, diciamo, di professionalità di cui la politica si è servita. In Italia è capitato che siano state le magistrature e che altri ceti professionali che gravitano intorno al mondo del diritto siano state in qualche modo non premiati in ugual misura. Ma questo dipende come dire da un dato oggettivo, non è che c'è una vicinanza, è il singolo, almeno nell'esperienza io parlo, poi ci confronteremo, ma l'esperienza della magistratura ordinaria non viene chiamata la magistratura, non c'è un'alleanza e un rapporto con l'ordine giudiziario o con la politica, c'è ovviamente l'apprezzamento delle qualità del singolo che viene chiamato perché probabilmente per esempio al Ministero della Giustizia la componente giudiziaria al di là delle previsioni di legge che per qualche posto obbligano ad avere magistrati ma per una ragione molto semplice perché anche al Ministero si amministra la giurisdizione e quindi è importante che ci siano i giudici che coniugano un sapere pratico e competenze tecniche che finora hanno dato buona risposta in termini di attese da parte del politico che deve governare un settore dell'amministrazione io non vedo in questo la punta dell'iceberg di una collusione pericolosa per l'indipendenza e le porte girevoli cosiddette ma le porte girevoli non so quanto girano hanno girato ormai pochissimo credo che per quanto ci riguarda le porte girevole non ce ne siano pressoché più quindi credo si appartiene a quel linguaggio a quel frasario giornalistico che poi alla fine si dovrebbe interrogare sui contenuti che stanno dietro le forme ma di che parliamo di una o due unità grazie grazie vedete la docina Paola Bricuori non so se voleva aggiungere qualcosa sull'indipendenza o su tutto quello che hanno aggiunto adesso abbiamo detto già molte cose che saranno da stimolo anche per quello di cui parleremo dopo visto che lei ha comunque parlato di indipendenza io non voglio rubare gli argomenti al tavolo che ci sarà però la Corte dei Conti per quanto riguarda l'indipendenza proprio se la vogliamo realizzare in termini sostanziali non solo formali soffre ancora di un problema concreto ma anche legato in particolare a una norma perché noi siamo sei destinatari di una norma del 2009 della riforma Brunetta che ha modificato il nostro organo di autogoverno e che è l'unico organo che rispetto agli altri al CSM al Consiglio di Presidenza degli amministrativi che non ha una componente togata votata diciamo di numero superiore alla componente laica c'è una raccomandazione del commissario europeo sì abbiamo certo il microfono il microfono se no non sentono va rispettata la proporzione e quindi la prevalenza della figura del magistrato in particolare votato perché poi noi abbiamo anche dei membri di diritto all'interno del Consiglio di Presidenza perché solo in questo modo si garantisce quella indipendenza che se no resta una come dire un dato formale e non realizzato nella sostanza e quella norma probabilmente dove essere un inizio si iniziava dalla Corte dei Conti per poi forse lavorare sugli altri consigli di Presidenza e modificarli tutti e non è stato così anzi devo dire che a a questo punto abbiamo la prova dal 2009 che nessun altro consiglio di Presidenza si è uniformato il legislatore non ha modificato la loro struttura e quindi oggi devo dire con molta forza chiedo che si intervenga che il legislatore intervenga a modificare per garantire in questo caso parlando solo della Corte dei Conti ci garantisca anche questo perché ci manca questo aspetto che non è solo formale ma anche sostanziale ma chiaramente non mi dilungo perché ci sarebbero tanti aspetti voglio però proprio come una sorta di tweet lo chiedo a tutti e tre e poi chiamiamo il sottosegretario Mantovano il fatto lo dicevamo lo sappiamo tutti che una massa di risorse importante stia arrivando dall'Europa col PNRR con tutto quello che questo vuol dire ovviamente lo vediamo in positivo per la crescita e lo sviluppo del paese ma fanno gola a molti questi denari dal vostro punto di vista richiede un supplemento non so come dire di attenzione di responsabilità a mio avviso sì da magistrato della Corte dei Conti non posso che dire che la Corte dei Conti ha un ruolo primario perché la Corte dei Conti è stata chiamata proprio a dare garanzia dei flussi di denaro a controllarli e ci sono delle norme in particolare che riguardano la Corte dei Conti che viene definita proprio cioè che il controllo della Corte in particolare quello concomitante è volto ad accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale in particolare in particolare il controllo che poi tutto il controllo di fatto è un concomitante ma nello specifico quello particolare concomitante che è stato dettato di recente dal DL 76 è quel controllo che scandisce tutti il procedimento di investimento di quelle somme per raggiungere e realizzare quel progetto ahimè se non ci fosse un controllo perché noi poi nel 2026 dovremmo rispondere di quei progetti e sono tantissimi con un profluvio di denaro quindi anche però questo questa norma che ha implementato i controlli il controllo concomitante che garantisce anche a livello predittivo che non si arrivi al anticipatorio che non si arrivi allo sperpero perché accompagna l'amministratore ma senza realizzare la congestione la Corte resta sempre il controllore da raccomandazioni io devo dire lo stiamo vivendo in prima persona abbiamo emesso già diverse delibere proprio su alcuni progetti li stiamo seguendo e li stiamo monitorando e questo aiuta anche gli amministratori a fare bene anzi devo dire che il controllo se fatto bene aiuta a fare bene a fare bene agli amministratori e si evitano anche profili di responsabilità anche se però non si può abdicare neanche alla responsabilità perché le procure intervengono solo quando c'è come siamo davanti all'extrema razio sicuramente ex post però se lei mi consente e lo dico anche il concetto di paura della firma che comunque che c'è però che oggettivamente c'è no? oggettivamente c'è ma va molto ridimensionato io ho avuto modo occasione di dirlo che la paura della firma può essere anche un falso problema davanti a un funzionario che si trova cioè lei dice può essere un alibi anche un alibi ma è un falso problema se le norme sono chiare se il procedimento è chiaro allora io le dico che forse bisogna investire nella semplificazione normativa nella formazione del personale però i casi di vera e propria responsabilità di cui tanto si demonizza per evidentemente perché porterebbe a evidentemente esiti che vanno scongiurati quindi si evita di firmare la paura sono a volte legati e sono ad alibi oppure se si tratta effettivamente di norme lacunose io glielo dico anche da ex più pubblico ministero nessun procuratore agirebbe contro qualcuno che effettivamente si trova davanti a una stratificazione normativa che non ti permette di capire qual è la norma non si può scrivere una citazione laddove contro qualcuno laddove c'è una giustificazione chiara che non si conosce la norma applicabile e questo era un post non era un tweet grazie no scherzo mi sto zitto compenserò non approfitterò della pazienza assolutamente però mi deve consentire due passaggi uno sul PNR uno sul fuori ruolo e mi deve fare un ringraziamento velocissimo perché mi sono accodata ma devo ringraziare il professor Sanino che è qui rappresentanza dell'UNA che rappresenta le Camere Amministrative d'Italia che sono i nostri compagni di viaggio costanti con i quali c'è un dialogo molto significativo detto questo per quello che riguarda il PNR dico solo una cosa l'emergenza la fretta non possono giustificare l'abbassamento delle garanzie siamo stati proprio noi Tardi Bari al centro di una grandissima polemica non entro nel merito ci mancherebbe altro anche perché non è questo il punto ma il punto è che non ci dobbiamo dimenticare appunto che i magistrati applicano le norme quindi se le norme vanno in una certa direzione evidentemente il magistrato non ha tutta questa scelta a meno che poi non debba fare un'invasione di competenze e operare scelte di opportunità quindi la sensazione che è molto italiana no? cioè la legge è galassola sono bloccate le edificazioni sulle coste fino a quando? 40 anni allora non sia che l'emergenza giustifichi l'abbassamento delle garanzie per il cittadino perché va bene tutto va bene spendere i soldi ma se si prendono dei progetti obsoleti e si buttano nel PNR e si pretende che tutto vada liscio scusatemi questa cosa non è possibile e quindi i tribunali amministrativi in particolare stanno lì in trincea a difendere le giuste lamentere dei cittadini per quello che riguarda invece i fuori ruolo volevo fare un passaggio dobbiamo ricondurre il problema nei termini corretti cioè il punto è torniamo al mio primo intervento le regole chiare e moderne cioè il magistrato che fa l'esperienza extra giudiziaria secondo me è un magistrato che tiene i piedi per terra ed è un bene che non resti chiuso in una torre d'avorio perché si rischia di perdere un po' il contatto alla realtà altro discorso sono le carriere costruite in maniera parallela e qui ci possiamo aprire con molta franchezza un dibattito magari non riusciamo a farlo stasera ma voglio dire il magistrato che esce dalla torre d'avorio e va nel mondo reale secondo me non è proprio un'esperienza negativa non è un'esperienza da reprimere e quindi torniamo al punto di partenza che le riforme non devono e non possono essere punitive e questo incontro vuole dare anche questo messaggio parliamoci con franchezza e parliamone con il mondo esterno grazie senta luce tweet alla sua sollecitazione grazie PNRR quindi non depotenziamo i controlli di legalità noi stiamo assistendo per quanto riguarda il magistrato ordinario ad un dibattito un po' come dire un po' a freddo sulle intercettazioni proprio mentre la procura del collega belga ci stanno dimostrando quanto sia importante non enfatizzare strumenti non è uscita una riga di quelle intercettazioni ma guardi anche noi abbiamo avuto le nostre riforme sul punto e credo che il recente passato non ci stia consegnando quei fenomeni quindi cerchiamo di tenere i piedi per terra nessuna come dire esaltazione degli strumenti investigativi però abbiamo necessità che il controllo di legalità continui a conservare efficacia grazie grazie allora potete ancora restare invito il sottosegretario Mantovano invece qui perché ha bisogno credo di un piccolo appoggio ecco le consegno questo eccoci qua grazie come è andata oggi col codice degli appalti è andata bene siamo all'inizio di un percorso è stato tanto buonasera a tutti il Papa è sorta sempre a dire tre parole chiave buongiorno buonasera grazie e qualche volta anche scusi quindi anche in osseguo il Magistero Pontificio valga la pena dire che sono regole basilari anche della buona convivenza se lo deve ricordare il Papa significa che è complicato dicevo siamo ringrazio dal presidente Briguri per l'indito ringrazio tutti voi e saluto i presidenti e i colleghi presenti è stato un esame preliminare che ha tenuto conto dell'enorme faticoso e intenso lavoro svolto dal Consiglio di Stato consegnato un paio di mesi fa dopo essere stato svolto perfino in agosto seguito da un necessario confronto col Ministero maggiormente interessato e cioè quello delle infrastrutture e con la presidenza del Consiglio e oggi viene consegnato da oggi viene consegnato all'esame delle commissioni parlamentari che non mancheranno di fornire il loro contributo anche perché ci sono dei nodi obiettivamente controversi che meritano il confronto col Parlamento alcuni dei quali sono anche rimasti aperti e peraltro sarà necessario anche tener conto dei vincoli derivanti dal PNRR soprattutto per la qualificazione delle stazioni appaltanti e quindi la soglia da individuare come in più di una voce che coinvolge il PNRR diciamo la dialettica è tra previsioni diciamo poco elastiche e ciò che chiedono gli operatori del territorio in questo caso i sindaci e poi ci sarà l'esame definitivo però mi pare che tutto sinora si sia svolto in un clima costruttivo e quindi sono fiducioso che si possa rispettare quella massima con cui abbiamo iniziato questa esperienza di governo cioè di non disturbare chi ha voglia di fare e diciamo risponde ai due criteri a cui facevamo cenno prima cioè velocizzare ma nel rispetto delle regole perché questa è la difficile come dire il difficile equilibrio poi a volte o appare difficile ma adesso nella conferenza stampa che ha fatto seguire il Consiglio dei Ministri un giornalista posto un rilievo critico sotto il profilo della legalità dell'appalto integrato e come ogni cosa dipende dalla prospettiva da cui lo si vede a mio avviso e ad avviso del governo che ha condiviso questa novità all'interno del codice degli appalti l'appalto integrato intanto permette un risparmio di tempo che non è un fattore come tutti noi sappiamo del tutto indifferente e forse eliminando alcuni passaggi elimina anche alcune occasioni questo non significa saltare le regole così come dal punto di vista dell'abbattimento dei tempi porre i pareri non uno dopo l'altro penso soprattutto a quelli delle sovrintendenze rispetto agli altri ma uno a fianco all'altro e poi operare la sintesi credo che non sconvolga nessun fondamento del sistema e permetta anche in questo caso di guadagnare tempo questo vale in assoluto ma in un momento in cui l'inflazione ha ripreso a galoppare in cui le crisi internazionali rendono così precari gli approvvigionamenti valorizzare il fattore tempo ripeto non per bruciare le regole ma per razionalizzarle credo sia espressione di buon senso poi insomma l'interlocuzione del Parlamento serve anche a ricevere indicazioni sul tema che stavamo affrontando diciamo all'inizio che è un tema portante l'indipendenza del giudice volevo sentire lei che è un magistrato di lungo corso ha ricoperto e ricopre ruoli di governo molto importanti diciamo ricorso definito ormai beh sì definito allora io ho preparato un intervento poi magari ve lo consegnerò non so se cerco di sintetizzarlo l'indipendenza è un valore fondamentale non soltanto perché è previsto dalla Costituzione ma perché oltre ad avere l'aspetto diciamo collegato alla funzione del magistrato è un aspetto di garanzia per ogni fruitore della giustizia certo ci possono essere ci sono state forse ci sono ancora adesso delle minacce dall'esterno della magistratura al bene indipendenza però io credo che prima di ogni altra cosa ci si debba chiedere soprattutto come magistrati quanto si tuteli dall'interno l'indipendenza stessa io non vorrei prenderla da lontano però sono convinto che per affrontare temi cruciali e quello dell'indipendenza è tema cruciale sia necessario andare alle radici e le radici chiamano in causa diciamo una tendenza che in Italia si è sviluppata certamente a partire dagli anni sessanta che per certi aspetti è stata necessitata soprattutto in alcune materie penso all'urbanistica penso all'ambiente dalla stasi e dalla inefficienza delle pubbliche amministrazioni ma che poi non è stato soltanto sentivo parlare prima un fattore oggettivo la categoria della supplenza è stata una categoria teorizzata e la teorizzazione è diventata ancora più significativa almeno da 30 35 anni da quando penso a opere cioè nulla di questo è avvenuto sotto traccia o di nascosto lo si è detto apertamente a opere come il diritto mite del professor Augustaro Zagrebeschi che lui inizialmente parlava dei problemi connessi dei problemi a metà tra giurisdizione e tecnologia o biotecnologie ma poi ha dilatato notevolmente il quadro quando teorizzava il fatto che la composizione dei conflitti fosse meglio gestibile all'interno di un procedimento giudiziario piuttosto che nel confronto per esempio di un Parlamento perché scriveva Zagrebeschi in questo volume che ripeto data più di 30 anni insomma nel Parlamento c'è spesso lite tra posizioni diverse mi pare i Parlamenti siano nati per questo per stabilire un confronto tra posizioni diverse e francamente che tutto ciò debba trovare una più adeguata sede di composizione all'interno di un procedimento giudiziario a me desta più di una perplessità ma questa elaborazione di pensiero ha avuto tante ricadute concrete ed è non solo da parte dello stesso Zagrebeschi ma di tanti altri giuristi anche Insigni è arrivato a teorizzare un profilo di giurista o di operatore del diritto che attinge la norma da ciò che suggerisce la realtà più ancora che dalla norma e quindi la norma in qualche modo viene creata all'inizio si parlava di orientamenti costituzionalmente orientati che attenzione non significava avere dubbi sulla costituzionalità di una norma e quindi andare davanti alla corte costituzionale ma significava applicare o disapplicare quella disposizione concreta dando una propria interpretazione della costituzione adesso nel dialogo tra ordinamenti siamo arrivati all'interpretazione convenzionalmente orientata e quindi la costituzione è stata in qualche misura messa in secondo piano ora tutto ciò ha avuto come esito questo sia oggettivo uno sconfinamento più di una volta si è parlato spesso dello sconfinamento rispetto al Parlamento si è parlato altrettanto di frequente dello sconfinamento rispetto a scelte proprie del governo qualunque fosse questo governo ma questa tendenza a straripare è diventata così consolidata che addirittura ha toccato anche l'area della scienza io adesso sono pugliese e condivido questa origine con il 110% dei presenti l'ho riscontrato prima che iniziasse questo incontro e in Puglia la vicenda Ilva mi pare che sia un'attestazione evidente di questo perché si ritiene in via giurisdizionale di poter dire con effetti dirompenti qualcosa di più rispetto a quella che hanno detto i tecnici ambientali che hanno rilasciato l'autorizzazione di impatto ambientale e in Puglia la vicenda forse più devastante di questo che attesta questo sconfinamento è quella della Xilella che da una zona limitata della provincia di Lecce è arrivata praticamente alle porte di Bari esclusivamente grazie ad un procedimento giudiziario che ha bloccato l'azione del congiunta del governo italiano e della Commissione europea dieci anni fa e poi si è conclusa con un'archiviazione peccato nel frattempo siano trascorsi tre anni durante i quali vi è stato il blocco di questa iniziativa congiunta governo italiano Commissione europea e il batterio che non ha atteso le determinazioni della magistratura ha fatto danni per un miliardo e duecento milioni di euro secondo le stime dell'associazione di categoria allora quando facevo scena alla necessità che l'indipendenza sia tutelata anzitutto dall'interno senza trascurare i pericoli esterni faccio riferimento proprio a che un bene costituzionale importantissimo però si è sempre declinato nel bilanciamento con altri beni questo è per ogni bene tutelato con la costituzione perfino la vita in costituzione non è un bene assoluto perché se la costituzione chiama in causa il sacro dovere di difendere la patria lì c'è un bilanciamento tra principi importanti non sto a fare la lezione a persone che ne sanno sul punto molto più e molto meno di me e devo dire che allora qualche giorno qui faccio outing qualche giorno fa no ma non come pensate voi in un altro senso qualche giorno qualche no no ma io no qualche giorno fa avendo lasciato in modo un po' traumatico la mia sezione della corteca sezione un paio di mesi fa dico traumatico non perché sia stato tonfato ma perché avevo depositato delle sentenze due ore dopo appreso dalla televisione del diciamo di ciò che avrei fatto nella vita successiva ci sono ancora delle sentenze che devo firmare e quindi la solerte direttrice della cancelleria mi ha consegnato questo pacco che adesso cercherò di riladere il prima possibile insieme con la toga che avevo lasciato in ufficio e devo dire che ricevendo questa toga in restituzione mi si è stretto un po' il cuore perché non avevo messo in conto non tanto la restituzione ma la definitività della restituzione perché qui altro che porte girevoli qui c'è una porta che basta e riflettevo mettendola non in dosso che non accadrà più ma mettendola a posto sulle caratteristiche di questa toga che è nera cioè non ha nessun colore e che è lunga perché deve nascondere tutto ciò che può condizionare l'agire della giurisdizione credo non ci sia io non so se qualcuno l'ha pensato quando ha inventato le toghe che potesse avere questo significato ma certamente l'indipendenza significa questo e e credo che vada tutelato anzitutto da parte di chi quella toga la indossa senza trascurare tutto il resto senta le chiedo ancora una cosa che so che poi non ha altro molto tempo intanto ringraziandola per essere intervenuto prima parlavamo di quella che giornalisticamente direttamente chiamiamo paura della firma sentivamo le riflessioni una riflessione da lei guardi qui c'è un concorso di cause come tutti i problemi non hanno né un'unica soluzione né un'unica causale e c'è una stratificazione che è diventato atteggiamento culturale inteso il termine cultura in senso lato c'è sicuramente una sovrapposizione di procedimenti adesso questo codice degli appalti va nella direzione della semplificazione ma inutile ce lo nascondiamo c'è un quadro reati contro la pubblica amministrazione che è diventato un mostro cioè quando io ho iniziato a fare il magistrato che capisco c'era ancora Giustiniano però insomma i reati contro la pubblica amministrazione 4-5 non di più corruzione concussione peculato malversazione e interesse in altri d'ufficio più o meno adesso voi siete tutti più giovani ma più o meno non questi poi nel 90 ne è stato aggiunto qualche altro e poi via via in questa bulimia di produzione di frattispecie di reato che porta oggi come il presidente Santa Lucia può attestare alcune sezioni della Cassazione a dirimere a stabilire qual è la linea di confine tra la truffa aggravata e danni dello Stato la frode in pubblica e forniture eccetera eccetera un restyling ci vuole e il restyling significa anche togliere di mezzo fattispecie il reato che come l'abuso d'ufficio non portano mai o quasi mai a condanna definitiva però hanno un effetto paralizzante nel momento in cui inizia l'indagine allora sarà un alibi o meno però io credo che se fosse realmente un alibi dovremmo sentirci impegnati a toglierlo e quanti più sono tanti più è corretto eliminare l'inversione di tendenza non è una cosa così semplice proprio perché è un atteggiamento radicato però ci si può provare agendo su tutti i fronti che finora hanno determinato questo che paura della firma burocrazia difensiva chiamiamolo però cominciamo a sfondare il terreno e vediamo che cosa succede questo riguarda anche il traffico di influenze sì no ma tutto ciò che è generico per cui non è prevedibile cioè quello che adesso al netto di atteggiamenti che sono veramente intollerabili che portano ad allungare il brodo il più possibile il modo migliore per non sbagliare non fare quindi allungare i tempi però al netto di tutto questo tutto ciò che rende imprevedibile o diciamo opinabile l'interpretazione al momento poi in cui la norma si apria tutto ciò ferma ricordo ero anche allora al governo ma ed ero anche allora sottosegretario ma al ministro dell'interno devo dire mi divertivo un po' di più che mi pare fosse il 2009 ci fu una piena del Tevere e per via di diciamo di detriti che si erano accumulati nel ponte che conduce da corso che conduce poi a via della conciliazione si era determinato un tappo per cui nel giro di poche ore il Tevere sarebbe straripato e avrebbe non dato tutta la parte della circostanza della città chi doveva fu chiamato alla protezione civile in prima battuta la quale scoprì che autorità che avevano titolo a esprimersi sul fiume erano in numero di 18 il burocrate avrebbe fatto la conferenza dei servizi e poi magari non soddisfatto della risposta avrebbe chiesto un parere all'avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato e nel frattempo l'acqua del Tevere sarebbe arrivata al grande raccordo anulare chi era all'epoca capo della protezione civile diciamo ha preso la decisione di far saltare in aria questo tappo mettendo un esplosivo ed evitando la piena della città ora ci deve essere qualcosa in mezzo per evitare da un lato la paralisi dall'altro il ricorso via di fatto che in questo caso è stato providenziale ma che normalmente provoca poi certamente qualche attenzione da parte di qualcuna se non tutte delle magistrature che sono qui così ben rappresentate le chiedo un'ultima cosa anche perché essere sempre in emergenza lo dico così su molti temi quando si evocano i commissari commissari straordinari questo nasce anche da quello che prima dicevamo cioè deve migliorare sensibilmente la qualità delle leggi di come si scrivono di come si impostano o no perché questo è uno dei problemi sì sì questo certamente è un percorso parallelo che deve andare nel senso sicuramente dello snellimento in questo devo dire che ciò che arriva dal fronte europeo non aiuta ti ha detto per niente per niente per niente ma al tempo stesso cioè in passato forse sottolino il forse ci si poteva permettere l'uso di stare adesso è il momento veramente della responsabilità per chiunque nel senso che non non si può giocare il tempo è un bene che ha il fattore tempo è un bene che ha un suo valore ha un suo costo se si allunga e quindi non può essere trattato come qualcosa che diciamo si può allungare come un elastico e credo che un recupero di responsabilità sia necessario un recupero adesso nell'ultimo rapporto del Censis sulla situazione degli italiani c'è un passaggio di estremo interesse da questo punto di vista devo dire il Censis dice sempre cose molto interessanti in passato ha descritto la società italiana come coriandolare adesso è l'Italia post-populista e malinconica ecco questo tema questo questo aggettivo malinconico è un aggettivo che deve far riflettere in passato il Censis ha descritto il sentimento del vancore che ha avuto anche una proiezione politica importante la malinconia porta a rassegnarsi a ritenere che non ci sia nulla da fare che inutile mi impegno tanto le cose restano sempre così e il fatto diciamo che la diagnosi è certamente il punto di partenza per tornare in salute se non c'è fosse il medico che fa la diagnosi andremmo a tentone e quindi il Censis fa questa diagnosi poi come in ogni rapporto corretto tra medico e paziente sta al paziente adottare la terapia che gli viene suggerita grazie in conclusione vuole dare un messaggio a questo tavolo come l'abbiamo immaginato delle tre magistrature intanto mi scuso ma c'è anche un posto consiglio dei ministri che devo riprendere tra breve quindi mi scuso se tra poco andrò via non ho nessuna pretesa di dare messaggio se non veramente un buon santo Natale a tutti grazie grazie sottosegretario Mantovano allora ringrazio anche Paola Briguori Gia Serleni e il presidente Giuseppe Santa Lucia se vi accomodate così grazie allora chiamo rapidamente diciamo gli ospiti del nostro confronto che continua credo che il sottosegretario al ministero della giustizia Sostellari sia in collegamento ho visto l'onorevole Montaruli sottosegretario all'università eccola qui buon pomeriggio poi Giuseppe Leotte il presidente dei magistrati militari Mario Aprile vicepresidente di Confindustria Giovani il vicepresidente dell'ANM Alessandra Maddalena Daria Valletta vicepresidente dei magistrati amministrativi e Adelisa Corsetti vicepresidente dei magistrati della Corte dei Conti vi faccio accomodare ci sono avete credo un microfono ognuno di voi grazie eh sì ma non c'era un ordine di seduta diciamo così anzi anche perché questo velocizza un po' allora scusatemi vi chiedo gentilmente anche io vorrei un coffee break al di là del programma che faccio ma non è ancora ora non è casuale allora vado subito intanto da Andrea Ostellari dal sottosegretario Ostellari intanto buon pomeriggio buon pomeriggio a voi mi sentite bene spero ecco allora lei ha seguito è riuscito a seguire qualcosa di questa prima parte ho ascoltato l'ultimo intervento di Mantovano ecco allora insomma da dove vuole cominciare io dicevo eh perno diciamo di tutto di questo incontro abbastanza diciamo da questo punto di vista pubblico inedito e di confronto eh delle tre magistrature e l'indipendenza vuole partire da qui ma guardi volentieri intanto mando un saluto a tutti quanti voi che siete lì presenti mi dispiace oggi non essere anche lì con voi ma insomma gli appuntamenti adesso anche territoriali insomma aumentano e sono e sono pressanti eh tuttavia insomma mi fa piacere intervenire eh quello della indipendenza imparzialità il ruolo in sostanza del magistrato di oggi beh eh io in questi in questi giorni pensavo un po' a una eh a una classica citazione di Montesquieu i giudici diceva eh sono soltanto la bocca che pronuncia il giudice le parole della legge essere esseri inanimati che non possono regolarne né la forza né la severità questo era quello che in qualche modo eh diceva questa a questa classica eh citazione eh la domanda quindi è è ancora così o è o c'è qualcosa di più oggi eh io credo che eh oggi quando si parla di giustizia quando si parla di magistratura quando si parla di eh di questo dobbiamo essere consapevoli che nel nostro sistema eh questa nostra eh diventa un pilastro essenziale non solo diciamo di una parte che magari viene sentita lontana dai cittadini è un qualcosa che emerge in maniera eh determinante a livello della nostra democrazia con un impatto notevole sulla nostra eh ad esempio anche economia quindi sulla nostra società sulla nostra eh capacità di sviluppare in positivo il nostro paese ed è chiaro che il magistrato però non può essere visto da solo non può essere lasciato da solo esiste in questo quindi la necessità di lavorare per eh perché questo eh possa essere aiutato ovviamente con interventi sotto il profilo del personale sotto il profilo della struttura delle strutture e sotto il profilo ad esempio delle tecnologie oggi importantissime e che saranno il futuro del nostro del nostro paese per essere anche più attrattivo e poi per ultimo perché no aiutato anche da leggi scritte bene troppo spesso noi vediamo e abbiamo assistito a una eh legislazione eh eccessiva eh diciamo a una proliferazione di leggi poco comprensibili che non aiutano il magistrato la magistratura e non aiutano nemmeno i cittadini un po' mi collego al tema che ha lanciato prima che avete di cui avete discusso anche con Mantovano in relazione ad esempio ad alcune fattispecie che oggi non hanno più ragione di esistere e mi pare sono abbastanza chiara anche la linea di questo governo la linea di questa maggioranza l'intenzione di mettere mano no a queste a questi esempi come ad esempio l'abuso l'ufficio che intendiamo sicuramente modellare quanto meno quindi sotto questo profilo io credo che ci sia la necessità di un intervento chiaro perché l'aiuto sotto questo sotto questa molteplice diciamo così visione determina anche in positivo la capacità per il giudice di potersi esprimere nella sua ovviamente determinazione che deve essere imparziale e indipendente e soggetta ovviamente solo alla legge grazie grazie sottosegretario non so se può restare ancora con noi o ha degli impegni da fronteggiare resta ancora un po' vado intanto adesso dalla sottosegretaria all'università Montaruli prima ovviamente adesso visto che era qui con noi quindi ha seguito diciamo la partenza di questo pomeriggio io notavo una cosa c'è qualcuno che lo diceva cioè è molto importante anche per esempio nella pubblica amministrazione avere dei dipendenti dei funzionari del personale competente e che conosce tutto questo prima è stato detto il fuori ruolo beh forse per i magistrati potrebbe significare una sorta di importantissimo tirocino per capire per toccare con mano poi come funzionano le cose io lo consiglierei anche a molti giornalisti che stanno in redazione e non hanno la minima idea di come funzionino poi da dentro le istituzioni piuttosto che un ministero o altro siccome lei appunto è sottosegretaria all'università c'è anche questo grande tema o no? allora assolutamente c'è questo grande tema tra l'altro non è un tema che riguarda solo la pubblica amministrazione inteso funzionari dirigenti dipendenti ma riguarda la politica perché molto spesso nell'agire politico quotidiano noi cosa facciamo banalmente chiamiamo il direttore chiamiamo il dirigente gli facciamo delle domande a cui noi cerchiamo risposte non essendo dei tuttologi e molto spesso facciamo un errore ci affidiamo a quello che ci dicono ed è un errore perché oggi la pubblica amministrazione in tanti casi è eccellente ma in altri purtroppo pecca proprio di di quel problema che lei adesso mi stava sul quale lei mi stava sollecitando quindi non è solo un problema del funzionario è un problema della pubblica amministrazione in generale è un problema della politica e poi diventa conseguentemente un problema del cittadino perché se la politica sbaglia il funzionario sbaglia il primo a pagare le spese di tutto questo è innanzitutto il cittadino e il pubblico universalmente inteso oggi il presidente Mattarella ha detto una frase al suo solito peraltro molto d'effetto cioè che tutti ci dobbiamo prendere cura della democrazia ma nel prenderci cura della democrazia noi tutti abbiamo una responsabilità nei confronti della giustizia che è un pilastro della democrazia e come fare a prenderci cura della giustizia intanto secondo me dobbiamo un po' uscire da quello che è stato l'errore ma lo dico innanzitutto alla parte politica ovvero quella di cui appartengo di concepire la giustizia quale fosse un po' in un'ottica quasi di contrapposizione noi dobbiamo servirci della giustizia anche per andare a riparare quelli che sono stati i nostri errori io questo ho imparato in tanti anni noi dobbiamo perché sbagliare è umano prego prego applaudite anche non timidamente sbagliare è umano lo potete fare non possiamo mai conoscere tutto perché non siamo oniscenti si fanno degli errori purtroppo si pagano degli errori molti lo pagano poi ovviamente nella propria vita però se dall'errore tu non sai cogliere l'aspetto positivo di capire qual è stato l'errore e di andare a colmarlo in vario modo oggi avete detto un errore no? ho sentito più volte un errore nei discorsi la legislazione non troppo chiara ecco questo è un errore è un errore collettivo ma è un errore poi è un errore che da collettivo diventa singolo quando ti trovi a fare legislatore e scrivi male la norma però in quest'ottica il dialogo e non la contrapposizione permette di andare a colmare quelli che sono stati gli errori anche in questi anni che hanno portato a delle storture quindi per esempio anche qua quando si parla del discorso della norma che deve essere chiara è utile che politica e giustizia si parlino per fare in modo che le competenze reciproche vengano messe al servizio del bene comune e cioè si scriva la norma il più chiaro possibile perché quello che io posso ritenere da politica essere una norma chiara magari non lo è per chi deve applicare la legge nelle aule di tribunale perché dico questo perché quando io faccio una norma chiara penso al mio elettore che la deve leggere e che deve capire che voglio raggiungere un determinato obiettivo quando invece la norma chiara è per il giudice è quella che la norma non vada anche in contrapposizione con altre norme crea crea invece un assetto giuridico che è confusionario poi nell'applicazione quindi se i due mondi poi si parlano e non si contrappongono si parlano ne viene del buono per tutti ne viene del buono per la collettività allora visto che il tema della giornata era il giudice nella società civile il giudice è una risorsa è una risorsa per tutti e guardate chi si sottopone alla giustizia è quello che crede di più nella giustizia medesima perché la giustizia il nostro sistema il nostro ordinamento ci dà dei modi con vari strumenti di non sottoporci alla giustizia fino in fondo per esempio i vari nuovi strumenti che ci sono anche per accelerare i tempi le mediazioni penso al processo penale anche il patteggiamento dai diciamolo è anche un modo per dire vabbè l'ho chiusa così c'è ancora la discussione non è una condanna è una condanna non è una condanna ma di fatto è accelero e non ho fatto un giudizio chi invece si sottopone alla giustizia è colui che crede profondamente nella giustizia la giustizia è fatta di uomini e quindi anche di giudici che certamente essendo uomini talvolta sbagliano come sbagliamo tutti ma è il credere in quell'uomo allora il giudice nella società civile è un po' la nostra coscienza è un po' la nostra la persona a cui io il giudice lo vedo come la persona a cui andare a chiedere quando hai un dubbio ecco questo quindi io vi ringrazio per questo momento e ritornando alle parole di Mattarella dico sì noi se vogliamo prenderci cura della nostra democrazia dobbiamo arrivare al punto di instaurare un rapporto virtuoso tra le varie parti del nostro ordinamento tra cui anche la politica e la giustizia nel dialogo per andare a colmare le strutture che ci sono ne abbiamo detta una oggi appunto quella delle norme spesso confusionarie scritte male ma ne potremmo trovare tante altre grazie grazie onorevole Montaruli vado qui accanto a me da Mario Aprile vicepresidente di Confindustria Giovani allora io credo che voi siate molto ovviamente interessati ma molto interessati soprattutto a tutto quello ne parlavamo prima il nuovo codice degli appalti dei contratti pubblici a quello che insomma può rendere più semplice più facile il lavoro di chi fa impresa di un imprenditore soprattutto di questi tempi e vorrei partire da qui perché poi molte volte questo insomma lo sappiamo non è che quando per esempio si parla dei magistrati amministrativi anche della Corte dei Conti nel percepito che i Tar bloccano tutto e qui paralizzano chi vuole fare fare in fretta e arrivare a meta allora sentiamo dal suo punto di vista tutto questo buonasera faccio una premessa che diciamo tutti gli interventi che mi hanno preceduto diciamo sono interventi che fanno sì che l'imprenditore non si senta solo perché diciamo che le perplessità le difficoltà che noi viviamo all'intorno delle nostre imprese quotidianamente sono state già espresse all'interno degli interventi quindi il sottosegretario ha parlato del problema legato al tempo che è uno dei principali beni e quindi per noi imprenditori lo diciamo sempre Confindustria lo ha sempre detto la lentezza del giudizio ovviamente va a creare dei danni enormi per gli imprenditori anche se in termini alle volte reputazionali perché la reputazione come per noi imprese è davvero un driver importantissimo anche in termini personali e talvolta patrimoniali e con la riforma in termini con la riforma il PNRR quello che sta facendo noi aspichiamo davvero che si possano raggiungere i risultati previsti affinché si raggiunga davvero questa diminuzione del 40% della lungaggine dei procedimenti con azzerando comunque diminuendo del 90% e questi sono diciamo gli obiettivi che ci siamo dati il 90% dei giudizi in corso e ancora si è parlato di formazione e di specializzazione di specializzazione del giudice che è quello che la Confindustria chiede che sia una specializzazione sia dal punto di vista della materia economica nella quale diciamo sono altamente qualificati ma anche proprio del contesto in cui l'imprenditore si trova ad operare quindi c'è molto importante non concentrarsi anche proprio talvolta sul territorio nel quale l'operatore economico interviene e ancora tra gli interventi che ci hanno preceduto la difficoltà delle norme norme scritte talvolta male quindi andare a scrivere delle leggi diciamo più precise e puntuali per noi imprenditori rappresenta un punto di arrivo importantissimo perché talvolta davvero noi siamo ci sentiamo soli dobbiamo andare un pochino alla ricerca di quella che può essere la soluzione giusta tra confronti con gli avvocati quindi si è parlato anche di quanto è importante il confronto quindi anche durante proprio la procedura durante l'appalto questi sono aspetti che non sono scontati non è scontato arrivare qui e sentire prima del mio intervento tutto questo perché davvero mi rafforza mi fa sentire la categoria imprenditoriale più protetta perché è quello di cui abbiamo bisogno perché noi sappiamo che se c'è una giustizia efficiente anzi la giustizia efficiente è proprio una precondizione perché possa funzionare un sistema economico anche dall'incontro del 13 di dicembre che è avvenuto tra il guardia sigili il ministro Nordio e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è stato un incontro nel quale si è data assolutamente precedenza a tutte le riforme che possano favorire la parte economica in questo momento dobbiamo spingere su questo acceleratore ma Fondo Monetario Internazionale Ocse Banca Centrale Europea hanno detto tutti la stessa cosa ossia che se la giustizia funziona bene lo Stato diventa competitivo e attrattivo perché noi abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno di attrazione di fondi di investimento Venture Capital quello che ad oggi in Italia stentiamo a parlarne quando in America se ne parla dal 1980 noi dal 2012 ci sono stati i primi convegni su Venture Capital ma questo perché? Perché un fondo di investimento talvolta è irrigidito nell'intervenire qualora in un paese c'è un'incertezza del diritto perché dovrebbe e abbiamo perso grandi opportunità e continuiamo a perderle per questo bisogna davvero lavorare in questa direzione perché un paese con una certezza del diritto ha davvero un vantaggio competitivo ma anche il sistema creditizio è più intenzionato e la regina credito ma a sua volta anche l'imprenditore è difficilmente andrebbe a cercare delle scorciatoie perché poi diciamo noi nell'ottica di questa collaborazione del giudice nella società civile dobbiamo dire che la giustizia efficiente non dipende solo dalla magistratura non dipende solo dal magistrato una giustizia efficiente dipende da tanti attori e tra questi attori ci siamo anche noi quindi anche noi dobbiamo fare un esame di coscienza alle volte anche noi siamo troppo litigiosi noi ce lo diciamo sempre la Confindustria che fa cerca di creare una cultura della legalità ed è per questo che davvero risulta fondamentale che anche all'interno dell'imprenditore non cerchi escamotage e non utilizzi la legge o la lentezza della burocrazia quindi quella che noi chiamiamo l'entocrazia dei tribunali per aggirare l'ostacolo e trovare un escamotage quindi dobbiamo fare tornare a una consapevolezza interna quindi proprio con un esame di coscienza di tutti noi che dobbiamo lavorare in maniera corale come con il presidente Serlenga facciamo sul territorio da tanto tempo perché anch'io come sono puglieso è una carica nazionale però diciamo rientro in quel 110% io posso dire ho una mamma pugliese e allora anche lei così completiamo questo clima ecco il papà è toscano la mamma è pugliese via e pertanto risulta veramente importante andare in questa direzione lavorare tutti insieme in maniera corale e noi ci possiamo permettere di dare quei piccoli consigli affinché diciamo una giustizia crei quelle precondizioni per lavorare bene mi dice due cose una rapida riflessione sulla paura della firma perché voi ci scontrate continuamente la paura della firma penso sia quell'argomento più dibattuto all'interno della della confindustria e delle territoriali e delle varie associazioni correlate e ci fa trovare alle volte delle situazioni in cui si vuole correre bisogna farlo anche col PNRR e poi ci si blocca immediatamente e il problema è che quando noi facciamo un piano di investimenti un piano di costi in un periodo come questo in cui tra crisi energetica in alzamento dei costi delle materie prime e difficoltà proprio nel riperimento diventa poi difficile rispettare un piano finanziario quindi ci troviamo ad aver fatto delle offerte degli accordi quadro che non riusciamo assolutamente a rispettare e quindi andare a perdere altro tempo risulta davvero ostativo e difficoltoso mi dicevo un'altra cosa siccome lei diceva io da quello che ho sentito mi sento più protetto come imprenditore siccome a questa occasione in questo momento di avere a questo tavolo la vicepresidente dell'associazione magistrale ordinari degli amministrativi della giustizia amministrativa e della corte dei conti cosa vorrebbe dire loro? Si dovesse rivolgersi a loro come dire da imprenditore guardate c'è una cosa qui abbiamo un progetto delle richieste di Confindustria sono relative alla ribadisco dalla specializzazione dei magistrati ma anche all'utilizzo per esempio del processo telematico e di come diciamo le procedure telematiche durante il covid hanno comunque permesso agli imprenditori e alla magistratura di andare avanti quindi tutto quello che permette uno snellimento e una razionalizzazione e ancora per esempio l'utilizzo di forme alternative penso alla negoziazione e mediazione assistita che magari può essere anche aiutata da crediti di imposta cioè tra le varie proposte di Confindustria o l'utilizzo della stessa in altre materie dove attualmente magari non è non è stata pensata quindi diciamo c'è un pacchetto di proposte di Confindustria che posso girare perché noi avremmo bisogno di un convegno solo per per illustrare le vostre proposte innumerevoli grazie grazie so che anche lei credo abbia un treno un aereo un aereo ci deve lasciare allora Giuseppe Leotta che è presidente dei magistrati militari di cui si parla parlo dei mezzi di informazione pochissimo caro presidente Leotta si intanto se mi permettete rubo 30 secondi per ringraziare i carissimi amici Gia Serlenga Paola Brigori e Giuseppe Santa Lucia che hanno organizzato questo bel convegno e che hanno pensato anche alla quarta magistratura perché stiamo parlando di tre magistrature in realtà in Italia ce ne sono quattro e stiamo per arrivare alla quinta con la nuova magistratura tributaria è vero che noi siamo piccoli quindi diciamo siamo anche abbastanza nascosti sanno i colleghi che almeno il presidente dell'associazione rappresentativa dei magistrati militari non ha complessi di inferiorità quindi diciamo ed è molto combattivo così come l'associazione ma anche soltanto per onorare la qualifica di militari di magistrati quindi siamo molto combattivi e ci siamo dati da fare almeno in questi ultimi due anni però effettivamente la magistratura militare è una piccola magistratura ma che completa un quadro che è un quadro costituzionale mi fa piacere devo dire apprezzo molto la passione che ho sentito nell'oratore che mi ha preceduto perché sentire un imprenditore che affronta con passione i temi della giustizia credo faccia piacere soprattutto agli operatori della giustizia e ha detto una cosa importante anche che però bisogna analizzare forse con un certo con un certo sguardo critico perché è vero che serve la specializzazione e ovviamente chi come me fa parte della categoria dei giudici speciali dei magistrati speciali non può che come dire porre l'accento su questa necessità però la specializzazione non deve essere esasperata non deve essere esasperata perché noi dobbiamo ricorderci di essere giuristi e di avere la necessità di comprendere tutti i principi del diritto e di saperli manovrare come dire in maniera armonica e complessiva però è vero che la specializzazione e le specialità sono necessarie dicevo che noi componiamo questo mosaico costituzionale che è descritto dall'articolo 103 della Costituzione che vieta le istituzioni dei giudici speciali però tutela il Consiglio di Stato e la giustizia amministrativa la giustizia contabile e anche la giustizia militare devo dire che il tema del giudice della società civile mi trova davvero molto interessato perché noi siamo ripeto una piccola magistratura siamo appena 58 magistrati in organico e amministriamo una giurisdizione al momento abbastanza limitata intanto limitata dal punto di vista soggettivo perché noi ci occupiamo dei reati militari commessi dai militari oggi i militari in Italia sono meno di 400.000 quindi poco meno di 400.000 cittadini qualcuno ci chiede ma che senso ha mantenere oggi una giustizia militare in questo sistema ha senso proprio nell'ottica dell'inserimento di una magistratura nel tessuto civile e intanto questa risposta ce l'hanno già data i padri costituenti mantenendo questa struttura ma questa ovviamente è una risposta formale e non basta forse serve proprio perché davvero una giustizia particolare come quella militare ha veramente il ruolo di un filtro civile noi amministriamo giustizia in una in un sistema molto particolare specialissimo come quello delle forze armate e come dire già il nome forze armate ci ricorda che si tratta di pochi cittadini ma che istituzionalmente svolgono il loro compito attraverso l'uso delle armi e quindi c'è bisogno di una forma di giurisdizione che comprenda le regole specifiche del sistema militare e che dia una giustizia rapida efficace noi siamo oggettivamente anche per ragioni di numeri non lo nego ma la magistratura più rapida e più efficiente da questo punto di vista che esiste in Italia ma è una necessità da preservare perché è chiaro che un procedimento penale nei confronti di chi fa parte di questa struttura ha bisogno di una soluzione rapida ed efficace perché non si può permettere che un soggetto che istituzionalmente abbia l'uso delle armi sia sotto processo per due tre cinque dieci quindici anni occorre capire se egli è responsabile di un reato ed eventualmente espellerlo da questo consesso questo peraltro porta a una dei nostri cavalli di battaglia noi abbiamo una struttura ordinamentale che è una struttura ordinamentale pari a quella delle altre magistrature anzi in alcuni casi siamo anche più evoluti nel senso che abbiamo le medesime regole ordinamentali della giustizia ordinaria siamo tutti magistrati magistrati togati siamo tutti civili non facciamo parte ovviamente del mondo militare se non in questo senso e applichiamo le regole del codice di procedura penale i nostri processi si concludono tutti in Cassazione ovviamente come tutti i processi penali abbiamo regole moderne che abbiamo conquistato però lei pensi che il nostro organo di autogoverno prima abbiamo accennato un po' lo diceva anche la collega Paola Briguori della necessità di aggiornare anche gli strumenti di autogoverno il nostro organo di autogoverno nasce negli anni 80 quindi molto recentemente prima vi erano certamente difficoltà di compatibilità costituzionale del sistema della giustizia militare dopodiché abbiamo oggi un sistema moderno ordinamentale ma applichiamo un codice del 1941 ora io dico riprendo gli stimoli del nostro amico confindustriale e dico ma possiamo permettere che una giustizia moderna perché siamo moderni rapidi applichi ancora un codice penale militare del 1941 io non credo noi abbiamo chiesto molte volte di aumentare la nostra giurisdizione ci siamo quasi riusciti nella scorsa legislatura ci riusciremo ne sono certo in questa ma questa è una necessità perché lo guardo anche dal punto di vista economico consideriamo anche che il sistema dell'amministrazione militare è un sistema che gestisce muove amministra un bilancio importante allora la magistratura serve anche come strumento io mi sono occupato in passato anche molto di regole di anticorruzione evidentemente anche in funzione preventiva non soltanto repressiva un sistema magistratuale anche nei piccoli sistemi specialistici può avere questo senso poi ovviamente permettetemi questo tema è un tema importante mi fa piacere che i colleghi abbiano organizzato questo bel convegno ovviamente come diceva Giuseppe Santa Lucia tutte le magistrature sono già discutono già hanno un tavolo di confronto comune e continuo che è il comitato intermagistratura che rinisce anche peraltro vedo la collega Valli Ferrante anche l'avvocatura dello Stato riunisce riunirà spero a breve anche i magistrati tributari quando inizierà questo percorso della magistratura tributaria professionale altro campo fondamentale dice l'economia ha bisogno di una riforma di questo genere e noi come comitato intermagistratura ce ne siamo occupati molto però questo titolo richiama ovviamente anche la seconda parte di questo tavolo di questo di questo convegno perché indipendenza l'indipendenza non esiste e non evolve senza un corretto esercizio dell'autonomia perché autonomia e indipendenza vanno necessariamente di pari passo ecco gli organi di autogoverno ne abbiamo parlato vedo davanti a me il presidente Carlino l'anno scorso un convegno organizzato proprio dalla mia associazione riunì tra l'altro anche tutti i vertici delle magistrature il presidente Carlino il presidente della Cassazione il consiglio di Stato l'avvocato generale dello Stato il procuratore generale militare in Cassazione parlammo dei sistemi di autogoverno è vero che su questo tema bisogna essere come dire ragionare in termini che non possono essere certamente di riforma continua ma devono essere termini di riforma meditata diceva Paolo Abriguori il consiglio di presidenza della Corte dei Conti ha un numero di rappresentanti togati elettivi cioè giudici della Corte dei Conti che vengono eletti dai stessi giudici quindi rappresentano il cuore dell'autogoverno queste autogoverno che sono in minoranza noi ad esempio siamo riusciti con un lavoro complesso siamo stati l'unica magistratura speciale anche grazie permettetemi all'opera dell'associazione dei magistrati militari ad avere con la riforma cartabia il raddoppio dei componenti elettivi nel nostro organo di autogoverno raggiungendo finalmente ci vorrà ovviamente una norma attuativa anche quella era nella delega cartabia una norma di delega a ottenere una maggioranza di componenti togati elettivi ma è chiaro che l'indipendenza è vero tutto quello che è stato detto ma l'indipendenza va garantita dall'autogoverno e quindi l'autonomia l'autogoverno e l'indipendenza sono come dire processi principi che si intersecano necessariamente e mi verrebbe da dire che va coltivata tutti i giorni ovviamente ovviamente tutti i giorni posso rubare solo rapidissimo prego visto che abbiamo parlato di tanti temi c'è un tema che mi sta a cuore anche perché voglio dire ho frequentato spesso come dire il fuoriruolo in uffici anche i ministeriali vedo di fronte a me il collega Peppe Santalucia ci siamo trovati spesso da capi uffici legislativi al tavolo del preconsiglio il fuoriruolo è stato davvero demonizzato è stato demonizzato e a ragione Gia Serlenga credo che fosse stata lei a dirlo prima deve essere semplicemente regolato teniamo presente che il fuoriruolo è stato demonizzato affermando che porta elementi negativi all'interno della magistratura pensiamo a cosa porta di buono il fuoriruolo dei magistrati ad esempio nei ministeri perché nei ministeri magistrati portano spero come dire di non autoelogiarmi ma portano la cultura dell'autonomia e dell'indipendenza un magistrato in un ufficio di gabinetto questa cultura la porta sempre ogni giorno portano il rispetto naturale del principio di legalità e portano anche una cosa di cui è stato detto prima si è detto c'è la paura della firma il magistrato è abituato a decidere un magistrato in fuoriruolo difficilmente ha paura della firma perché è abituato a decidere a prendere una decisione ed assumersi anche le responsabilità della sua decisione interessante questa sottolineatura grazie allora Alessandra Maddalena sentiamo la vicepresidente dell'ANM dove è? eccola allora da dove vuole partire? giusto parto da due riflessioni che aveva fatto sia adesso noi siamo 9300 400 credo ma 1400 ne mancano e questo per tornare al problema dell'efficienza e quindi il problema dell'organico è serio siamo tanti ma non siamo abbastanza e una seconda ripressione sull'autogoverno è una notizia ottima questa del raddoppio dei componenti elettivi nell'organo di autogoverno auspichiamo che anche l'organo di autogoverno della corte dei conti possa avere una composizione che veda la componente della magistratura in numero superiore e ci auguriamo che la composizione del nostro autogoverno rimanga come adesso adesso non scenderò nel dettaglio se ne parlerà probabilmente dopo perché la garanzia dell'indipendenza dalla magistratura passa per gli organi di autogoverno incidere su questo equilibrio significa anche minare l'indipendenza della magistratura lo ripetiamo sempre che è nell'interesse dei cittadini e ho sentito tante cose ci sarebbe veramente tanto da dire gli spunti sarebbero tantissimi ho sentito parlare di giudizio della società civile sulla magistratura deve esserci il giudizio della società civile anche sulla magistratura noi dobbiamo essere aperti alla critica della società civile e perché siamo soggetti anche al controllo sociale la nostra attività deve essere trasparente deve essere compresa e anche criticata direi che la magistratura ordinaria è quella più criticata di questo possiamo essere certi per tante ragioni direi di sì e si parlava prima di percezione dell'indipendenza o meglio percezione della scarsa indipendenza della magistratura si è parlato di percezione di indipendenza in senso negativo cioè di scarsa indipendenza sono dei numeri sono state fatte delle indagini sul punto quindi sono dei numeri quindi una statistica ma allora ci si deve chiedere perché ci sia questa percezione perché poi una cosa è il difetto di indipendenza una cosa è la percezione del difetto di indipendenza e quindi quali sono le cause perché bisogna dirlo che ci sia un problema di sfiducia della società civile nei confronti della magistratura io parlo della magistratura ordinaria ho sentito prima delle riflessioni anche per la magistratura amministrativa ma ripeto io parlo soprattutto per la magistratura ordinaria è un fatto in dubbio ma cos'è che interessa poi alla società civile prima l'abbiamo sentito sì sicuramente il problema dell'indipendenza ma è strettamente collegato in realtà a un altro tema io credo che i cittadini poi interessi sostanzialmente l'efficienza della giustizia che cosa non va bene che ci sono ritardi effettivamente spaventosi la giustizia è lenta ma noi siamo i primi a dirlo e ci mancherebbe e il problema sicuramente è acuito anche dalla situazione attuale siamo ancora nella pandemia non ne siamo usciti con tutto quantomeno con le conseguenze economiche di quella pandemia e siamo adesso in una situazione ancora più grave anche per la guerra è inutile dirlo e quindi la sensazione della società civile di essere lontana dall'istituzione non solo dalla magistratura anche dalle altre istituzioni è molto forte e noi lo sappiamo e quindi la magistratura non si sottrae al confronto e forse proprio in questo momento e credo che ci sia una consapevolezza altissima in questo momento il dovere del magistrato di parlare di comunicare e di cercare insieme soluzioni perché è vero forse in passato c'è stato un atteggiamento dei magistrati più di chiusura di autoreferenzialità magari anche di un atteggiamento più sulla difensiva invece noi siamo qui anche per assumere un atteggio per essere propositivi quindi farci parti attive anche di proposte perché noi una giustizia che funzioni la vogliamo ma e parlavo prima della percezione è anche vero che noi abbiamo il dovere di comunicare di spiegare anche il significato della nostra attività anche i disagi in cui lavoriamo ma anche il significato concreto dell'attività ma è anche vero che questo deve essere un lavoro che deve essere fatto insieme la fiducia nella magistratura è una precondizione per la sopravvivenza dell'indipendenza della magistratura perché se la magistratura perde definitivamente la fiducia sarà più semplice anche intervenire per minare questa indipendenza o comunque indebolirla ed allora se noi siamo in grado insieme di cogliere quelli che sono i veri motivi dell'inefficienza della giustizia anche facendo autocritica ma se si comincia non più a lasciar passare il messaggio di una magistratura neghittosa di una magistratura partigiana perché spesso si sente questo di una magistratura che abusa degli strumenti di cui dispone si parla delle intercettazioni o di altro delle misure cautelari questo porterà inevitabilmente ad indebolire una magistratura e non cogliere invece quelli che sono i problemi seri ora si è parlato di paura della firma introduco io l'argomento immagino ne parlo anche come magistratura ordinaria e non c'è dubbio che c'è una difficoltà degli amministratori pubblici qual è il motivo sicuramente una legislazione complessa e si dice deve essere modificata la normativa penale qualunque modifica una scelta del legislatore la si vuole fare la si farà già si è fatta purché l'obiettivo è sempre quello di reprimere le condotte che contrarie ai principi della giustizia combattere la criminalità anche nel campo della pubblica amministrazione ma sono scelte le legislature il messaggio però che credo non debba passare e forse a volte è questo quello che ecco genera anche una quella percezione di mancanza di indipendenza dalla magistratura è che l'azione della magistratura possa avere un fine politico si agisce si inizia no no prego prego non la voglio interrompere volevo farle una domanda su questo cioè di solito giornalisticamente si dice l'ANM è il sindacato delle toghe no si dice adesso lasciamo stare le semplificazioni giornalistiche e come si fa vorrei superare non voglio cogliere l'aspetto polemico voglio superarlo come si fa a far sì che i cittadini non vi percepiscano come un sindacato di opposizione ad esempio rispetto ad una riforma della giustizia annunciata qualche giorno fa dal ministro Nordio ma sicuramente assumendo quello che dicevo un po' all'inizio cercando il dialogo quindi sicuramente non tenendo un atteggiamento ma io credo che questo sia anche l'atteggiamento che ha tenuto l'associazione nazionale magistrati nei confronti anche dei sì c'erano degli aspetti su cui non eravamo d'accordo noi rimentichiamo la inopportunità di determinate riforme continuiamo a farle ma non per una chiusura corporativa perché riteniamo che siano delle riforme che possono andare addirittura in contrasto con la necessità di mantenere invece l'indipendenza della magistratura o o altro ma quello che bisogna fare sicuramente è spiegare parlare confrontarsi non chiudersi ma confrontarsi non significa non continuare ad esprimere una posizione ma facendolo spiegando le cittadini come abbiamo cercato di farlo e quando arriva a volte i mass media danno per esempio delle a volte anche involontariamente delle interpretazioni scorrette a volte succede anche dell'attività dei magistrati è giusto che l'associazione non voglio chiamarla sindacato ma sicuramente interviene anche nell'interesse della magistratura intervenga per ricondurre a correttezza un certo tipo di informazione o anche possa esprimersi quando ci sono a volte delle esternazioni anche della politica che possono essere non ingenerose definiamole così e quindi è giusto anche poterlo dire questo non significa assolutamente chiudersi non accettare il confronto abbiamo parlato di recente eravamo con il presidente Santa Lucia e gli altri componenti della giunta con il ministro Nordio il quale siamo stati assolutamente disposti a dialogare con la magistratura introdurre dei tavoli con la magistratura per trovare insieme delle soluzioni noi siamo qui siamo disponibili senza nessuna volontà di contrapposizione se qualcosa può aiutare a recuperare il rapporto di fiducia bisogna farlo anche sollecitando ad evitare determinate atteggiamenti che possono peggiorare una situazione anziché giungere insieme ad un recupero di questo rapporto di fiducia grazie grazie allora anche ad Alessandra Maddalena vado da Daria Valletta allora torniamo ai giudici amministrativi no quello che le voglio chiedere l'abbiamo detto è già stato spiegato però un pochino capire cioè qual è il ruolo il vostro ruolo del magistrato amministrativo nella società qual è nella società dunque innanzitutto vorrei prendere un attimo l'abbrivio per poi arrivare dove lei mi vuole condurre da una riflessione che non mi sembra da sottovalutare cioè mi è piaciuto molto questa espressione questa sollecitazione prendiamoci cura della democrazia dalla quale è partita la sottosegretaria Montaruli ma vorrei dire che in effetti forse è un po' quello che stiamo facendo oggi no prenderci cura della democrazia cioè democrazia vuol dire anche assumere un atteggiamento di responsabilità in prima persona in una situazione storica che certamente non è forse tra le più semplici si parla di permacrisi come di vocabolo dell'anno questo ci richiama ad un senso di responsabilità nel confronto tra tutti noi che siamo comunque attori istituzionali e non istituzionali ho apprezzato molto anche lo scambio che c'è stato prima con il vicepresidente di Confindustria responsabilità che vuol dire saper superare le contrapposizioni preconcette quelle che forse hanno tenuto un po' banco anche sulla scena del dibattito interno politico masmediatico negli ultimi anni guardarsi allo specchio e mettere il dito su ciò che effettivamente deve andare in una direzione di evoluzione è un po' quello che mi sembra stiamo facendo un po' tutti noi nel manifestare questa disponibilità magistrati ordinari amministrativi esponenti della politica del mondo dell'imprenditoria ritornando alla sollecitazione che lei mi proponeva il ruolo del giudice amministrativo nella società civile ma francamente anche come dire a rischio di poter apparire immodesta in questo momento però io credo che il ruolo del giudice amministrativo nella società civile sia un ruolo fondamentale come baluardo a tutela di alcune libertà alcune prerogative anche di rango primario costituzionale del cittadino noi oggi abbiamo parlato tanto dell'impatto del lavoro del giudice amministrativo sui settori dell'economia abbiamo citato più volte la riforma degli appalti abbiamo anche citato un po' questa narrazione che io definisco tossica anche se si tratta di un'espressione un po' abusata del magistrato amministrativo come freno allo sviluppo dell'economia del paese in realtà non credo che sia questo il modo più giusto di guardare al plesso della giustizia amministrativa se vogliamo un attimo fare un passaggio rapidissimo sul discorso cantieri pubblici perché è stato accennato più volte ed è giusto comunque sviscerare anche queste perplessità quando il cittadino imprenditore o non che sia te le propone francamente io sento di poter dire che la risposta che noi oggi siamo in grado di dare come magistratura al bisogno di giustizia del cittadino anche dell'imprenditore è una risposta efficiente efficace e rapida che passa attraverso anche un percorso temporale molto ridotto tempi molto contingettati di più e di meglio ecco in termini di durata del processo da questo punto di vista sarebbe difficile fare ed è anche importante poi sottolineare come poi quello che passa nella narrazione anche massmediatica non trova sempre riscontro nei dati che noi andiamo ad analizzare perché in definitiva le ultime rilevazioni relativamente recenti dimostrano come poi i cantieri pubblici che effettivamente subiscono un arresto per effetto di un intervento in via cautelare del giudice amministrativo si attestano su percentuali bassissime rispetto a quella che è la globalità del contenzioso che noi introdiamo cioè parliamo dell'1-2% di domanda di sospensiva che vengono accolte e comunque la definizione del processo arriva in tempi brevi questo che cosa vuole dire vuole dire che forse è onesto assumerci le responsabilità che ci competono ma è anche altrettanto onesto non gravare poi non far gravare sul magistrato dei nodi gordiani che non gli competono insomma ecco questo della paralisi dell'economia ma nel rapporto del magistrato amministrativo con la società civile io sento di poter dire questo io tra l'altro provengo dalla magistratura ordinaria quindi ho un po' il termine di paragone di quella che è il comune sentire del cittadino rispetto al magistrato ordinario e rispetto al magistrato amministrativo il magistrato amministrativo viene avvertito come una figura forse un po' lontana dalla società civile un po' perché è poco conosciuto un po' perché viene interpretato come il giudice dell'economia un po' perché probabilmente non si conosce esattamente ciò che fa il giudice amministrativo in realtà se noi andiamo poi ad indagare con occhio attento scopriamo che in realtà il giudice amministrativo è profondamente implicato in questioni che invece impattano molto sul viver civile sul vivere della società civile e non solo nel settore economico perché noi abbiamo parlato di economia ma voglio farvi un altro esempio la dottoressa Maddalena citava la pandemia che abbiamo attraversato anzi probabilmente attraversiamo ancora gli ultimi anni che cosa hanno insegnato hanno insegnato che il giudice amministrativo finisce con l'essere in prima linea quando si tratta di dipanare di nodi complicatissimi di conflitto tra interessi tutti di rango primario tutti di primissimo rilievo per il cittadino per l'individuo pensiamo al problema enorme di portare a coerenza la tutela del diritto alla salute da un lato e il diritto all'istruzione dall'altro io che poi sono madre di bimbi piccoli ho vissuto la chiusura delle scuole devo dire la dad potrei portare un'esperienza dolorosa in prima persona come genitore di figli in dad oppure il conflitto tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro dall'altro e qui il giudice amministrativo è chiamato a farsi interprete delle tensioni che la società civile avverte quindi in questo senso non è affatto così chiuso in questa torre burne alla quale prima accennavamo piuttosto è come dire è assolutamente sensibile alle tensioni del vivere civile ma voglio farvi anche un altro esempio questo giusto per come dire consentire a chi è lontano da questo mondo di avere uno spaccato su quello che è il lavoro quotidiano dei nostri tribunali mi viene da pensare ad esempio anche in relazione ad uno studio che ho fatto per la partecipazione recentemente ad un altro convegno mi viene da pensare a quanto è stato poi tutto sommato importante il contributo che il giudice amministrativo ha offerto in termini di evoluzione della riflessione giuridica e della sensibilità giuridica anche in materia per dire di tutela della genitorialità di tutela della famiglia che sono ambiti che in generale non vengono percepiti come il classico punto di approdo del lavoro del giudice amministrativo faccio un esempio per tutti pensiamo a quando la tutela della genitorialità passa attraverso il ricorso a pratiche di procreazione medicalmente assistita di PMA eterologa ecco in questi casi è stato il giudice amministrativo talora ad essere chiamato a verificare che effettivamente il livello prestazionale della sanità pubblica fosse adeguato rispetto a un'effettività di tutela del diritto alla genitorialità sono tutti esempi che io voglio portare proprio perché per far capire anche qual è l'attività esatto perché la relazione tra il magistrato e il cittadino è una relazione che si deve anche nutrire di comprensione e di conoscenza di ciò che noi facciamo e questo ovviamente è un peso che ricade anche sul magistrato che deve essere in grado di farsi comprendere dal destinatario ultimo poi del suo lavoro che è il cittadino il che tra l'altro interseca un altro tema molto importante secondo me legato al rapporto tra magistrato e giustizia civile che è quello poi dei limiti della comunicazione del magistrato ora per esempio noi come magistrati amministrativi attraversando l'era digitale quindi anche una rivoluzione per quello che riguarda l'utilizzo dei mezzi di comunicazione ci siamo recentemente dati una regolamentazione sull'uso dei social network da parte del magistrato perché anche qui si tratta di contemperare interessi fondamentali opposti da un lato la libertà del magistrato ma dall'altro anche l'esigenza di non superare quei limiti di continenza oltre i quali poi si rischia di mettere a repentaglio l'indipendenza di cui noi oggi parliamo la terzietà che sono valori da preservare massimamente voglio dire un dovere quindi di in qualche misura venire incontro al cittadino di farsi conoscere che noi abbiamo cercato in qualche maniera di ottemperare anche ad esempio organizzando so che anche in giustizia ordinaria esistono esempi analoghi anche noi organizziamo delle giornate a porte aperte talora degli open day è un'esperienza annuale oramai la nostra che consente al cittadino un po' di toccare con mano qual è la realtà del nostro lavoro e quindi di vincere quella diffidenza e coltivare invece quella fiducia che come si diceva è il presupposto necessario per tutelare l'autonomia e l'indipendenza che attenzione non sono una prerogativa del magistrato inteso come privilegio del magistrato ma sono uno strumento assolutamente indispensabile perché poi il cittadino riceva la tutela della quale deve essere destinatario perché attenzione noi parliamo comunque di una magistratura che è chiamata in fin dei conti ad un compito fondamentale che è quello di tutelare il cittadino rispetto al rischio di un'azione illegale dei pubblici poteri cioè di un'azione del pubblico potere che si muova al di fuori del paradigma normativo di legalità abbiamo parlato di PNRR ora il magistrato amministrativo si sente chiamato ancora più forse in questi tempi di spesa pubblica molto ingente a effettuare con coscienza e responsabilità questo compito di verifica dell'allocazione legittima ed efficiente della risorsa pubblica quindi in questo senso io semplicemente sono molto fiduciosa del fatto che ci si possa parlare di nuovo in maniera serena costruttiva e al fine di approdare soluzioni che poi in ultima istanza consentano di perseguire l'obiettivo primario avuto di mira che è un servizio efficiente per il cittadino per il cittadino grazie allora adesso sentiamo a conclusione di questo nostro confronto ad Elisa Corsetti quindi torniamo a occuparci di come si dice magistrati contabili di Corte dei Conti perché anche voi avete un grande compito e un ruolo di grande responsabilità perché poi alla fine dovete garantire i cittadini nel controllo funziona il microfono nel controllo dei conti cioè voglio dire poi il beneficiario finale mi verrebbe da dire è il cittadino perché date la garanzia che le risorse non si sprechino non vengono distratte via dicendo poi ci sono molte fatti specie sì vi prego certamente abbiamo sentito oggi molte suggestioni si è parlato dell'indipendenza del giudice il giudice al servizio del cittadino e anche abbiamo avuto parole di conforto possiamo dire anche dalla sottosegretaria che ci dice che il giudice può essere una risorsa e quindi come dire questo ci incoraggia nella nostra azione quotidiana noi poi come magistratura diciamo a differenza delle altre magistratura abbiamo anche una peculiarità perché non abbiamo mai di fronte avete la pubblica amministrazione abbiamo solo la pubblica amministrazione sempre quindi abbiamo sempre a che fare con le istituzioni quindi dobbiamo sperimentare l'indipendenza e l'imparzialità diciamo è un po' un abitus mentale che cerchiamo di avere per poter rendere appunto un servizio alla collettività e quindi anche manifestare nello stesso tempo l'indipendenza dalle amministrazioni che controlliamo perché la Corte dei Conti abbiamo qui il Presidente che ci fa l'onore di partecipare a questo a questo convegno tra le magistrature che anch'io sono a ringraziare perché è un confronto importante altrimenti siamo autoreferenziali parliamo tra di noi ma è bene estendere diciamo il dibattito e la Corte dei Conti anche se è stato già detto la Corte dei Conti come il TAR come le magistratura amministrativa blocca nella percezione del cittadino può essere vista come un ostacolo un frenatore una risorsa ecco ma non è così perché la Corte dei Conti da oltre un secolo in effetti che cosa fa come mestiere proprio come sua diciamo il suo core business è orientare l'azione delle pubbliche amministrazioni e questo lo fa ai sensi dell'articolo 100,2 della Costituzione quindi lo fa nei casi in cui è previsto il controllo preventivo di legittimità lo fa nei confronti degli enti contribuiti dallo Stato lo fa nei confronti quando fa il controllo di gestione sulla gestione delle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato lo fa con il controllo concomitante che la Presidente Paola Brigori ha proprio ricordato perché è un controllo nel mentre accade l'azione amministrativa e quindi abbiamo detto che è anche un controllo che può anche diciamo evitare di sbagliare quindi di incorrere anche in responsabilità la Corte dei Conti è vero fa anche giurisdizione ma sono i casi della patologia sono i casi nei quali chi agisce per la pubblica amministrazione non diciamo si rende responsabile come le stesse insomma ha accennato di sprechi di malagestio e quindi questo naturalmente deve essere diciamo questo non può essere deve essere riguardato le risorse pubbliche vanno tutelate la Corte garantisce questo e proprio l'occasione del PNR è ovviamente una occasione che più di diciamo un'occasione epocale che non può non riportare appunto all'attenzione il fatto che che proprio quando in ambito europeo si stanno sono state predisposte è stato predisposto un sistema molto rigido di condizionalità questo sistema non può essere declinato in ambito nazionale come un allentamento dei vincoli perché si privilegia la fretta quindi il come dire l'accelerazione delle procedure di spesa senza come dire considerare e poi diciamo l'effettivo beneficio per i cittadini quindi il fare bene quindi questo è un diciamo questa nostra funzione ecco noi vorremmo anche comunicarla meglio come è stato detto dalla collega vorremmo comunicarla meglio vorremmo che la percezione del nostro lavoro fosse diciamo più alta nell'opinione pubblica però comunque naturalmente ci impegniamo e quindi cerchiamo appunto che questo diciamo che migliori anche con una buona comunicazione perché occasioni come queste possono anche diciamo migliorare la comunicazione poi a proposito di indipendenza si è parlato chiaramente in questa diciamo in questo pomeriggio anche del tema della separazione tra magistratura e politica quindi di porteggirevoli di fuori ruolo eccetera anche io sono d'accordo che il fenomeno non può essere diciamo demonizzato innanzitutto perché non è un fenomeno grande sono numeri veramente molto piccoli come lo si racconta assolutamente no si è parlato di competenza tecnica del magistrato che sicuramente appunto sono il magistrato arriva a fare questo lavoro dopo un concorso molto difficile per cui è una professionalità che viene anche apprezzata dalle amministrazioni ma dopo non voglio dire che le diciamo regole non debbano essere fissate le regole servono è giusto che il magistrato poiché fa un lavoro più delicato degli altri dipendenti pubblici sia soggetto ad un regime di incompatibilità che è più restrittivo rispetto a quello cui sono soggetti gli altri dipendenti pubblici facciamo riferimento al 53,7 della 165 quindi bene che ci sia un regime più restrittivo ma questo regime più restrittivo è stato già posto dalla legge Severino perché la legge Severino ha già posto il tema del fuori ruolo obbligatorio e di un termine finale che sono i dieci anni poi queste regole sono state come noto sappiamo tutti un po' inasprite dalla riforma Cartabia ed è diciamo è un po' curioso ecco ed è un po' curioso se posso dire che proprio nel dibattito politico quando si parla proprio di allentamento dei vincoli della riforma della legge Severino appunto nei confronti dei condannati in primo grado noi veniamo però diciamo apprezziamo il fatto veniamo a conoscere il fatto che invece nei confronti di una categoria che è quella dei magistrati la Severino non solo non si mette in discussione ma con la Cartabia vengono un po' inasprite queste regole ecco e questo insomma è un dato di fatto forse è un frutto di quella percezione di cui di cui parlavamo poi in ultimo volevo solo una cosa ultima sottolineare cioè anche per dire che effettivamente forse è un falso problema questo mancato questa carenza di regole appunto nel rapporto tra politica e amministrazione perché in effetti a fronte di disposizioni molto molto specifiche che sono date dalla legge Cartabia noi vediamo che c'è il decreto legislativo il 146 del 2021 che tratta appunto del PNR che prevede che al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti del PNR questi limiti temporali non si applicano quindi come dire le regole ci devono essere ma le regole devono essere uguali per tutti quindi questo è un po' una diciamo una dimostrazione del fatto che appunto si tratta forse di un problema diciamo così sopravvalutato e da ultimo e proprio qui mi fermo perché capisco volevo dire che anche il problema è sopravvalutato anche per un altro motivo per esempio il nostro consiglio di presidenza appunto come Corte dei Conti ha previsto nei suoi regolamenti interni c'è già una norma che già da tempo il Presidente lo può confermare che viene incontro alle esigenze del ricollocamento dopo il fuori ruolo ed è il 23,3 della deliberazione 231 del 2019 quindi anche sotto questo profilo voglio dire non c'è davvero nulla di nuovo cioè ogni magistratura al suo interno ha ipotizzato ed ha diciamo ha predisposto delle regole per come dire garantire un giusto ed equilibrato rientro nella magistratura da parte di chi ha ricoperto degli incarichi di governo o comunque di negli uffici di diretta collaborazione grazie 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 anche a lei allora siccome non è finito il pomeriggio e c'è un richiamo irresistibile per il coffee break allora un telegramma finale sotto se la Montaruli io un telegramma finale che faccio è che colgo l'occasione di questo incontro un po' più vicino scusi il microfono per prendere l'impegno a continuare a un confronto se lo vorrete per tutti per tutti gli interventi che eventualmente il governo ma non soltanto il governo la nostra attività richiede grazie io non so c'è Giulia Merlo che adesso c'è allora c'è un quarto d'ora di coffee break e poi c'è Giulia Merlo per la parte finale della seconda sessione grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti